Torniamo a parlarvi di volo con gli sci dal momento che poco fa si è concluso il mondiale di volo di planizza 2020 con la gara a squadre che ha visto trionfare la Norvegia sulla Germania Norvegia e Germania che hanno fin da subito chiarito che erano loro le potenze da battere e infatti si sono spartiti un trofeo a testa, un oro a testa meglio l'individuale è andato alla Germania con Carl Geiger, la Norvegia invece appunto si aggiudica la prova squadre, è un mondiale di planizza che ha regalato tanto spettacolo, ha regalato un'ottima prestazione in casa Italia ma anche tante altre cose di cui parlare extra gara e dunque benvenuti a quello che è a tutti gli effetti un Nordic Podcast che va ad aggiungersi ai Racing Podcast sulla Formula 1 e sugli sport motoristici Partiamo dalla fine, partiamo dall'individuale perché la Germania vince un titolo del mondo di volo con gli sci dopo Severin Freund va a trionfare Carl Geiger altro saltatore che prevalentemente impronta il suo salto sulla forza, sulla spinta piuttosto che sulla qualità aerodinamica come dicevo però nel video scorso Geiger è molto migliorato anche da quel punto di vista tanto è vero che si è ritrovato a essere molto competitivo fin dalle prime battute di questa gara una gara che appunto si è svolta su quattro serie come da tradizione dei mondiali di volo con gli sci nell'ultima serie in realtà Geiger si è difeso dalla prestazione mostruosa di Halvor Egnard Granrude evidentemente uno dei favoriti veri alla vittoria del titolo 231 metri e mezzo però sono sufficienti al tedesco per aver ragione del Norvegis di solo mezzo punto ed è incredibile come ci sia stato tanto equilibrio tra questi saltatori per quattro serie di gara si fa fatica diciamo ad averlo normalmente in una gara di coppa del mondo questo distacco quando le serie sono soltanto due su quattro vi dà l'idea di a che livello si sono spinti i saltatori è una prestazione maiuscola da parte di Geiger in generale della Germania che è la vincitrice nettamente dell'individuale perché ne piazza due sul podio i due contenti evidentemente di questa foto sono il primo Carl Geiger e il terzo Marcus Eisenbichler che probabilmente era il favorito tecnico per la Germania per quotarsi diciamo per loro visto che Eisenbichler è quello che ha l'aerodinamica più avanzata del team Germania e invece viste anche le condizioni che hanno visto poco vento frontale quindi di aiuto ai saltatori ma tanto vento di coda atleti con la grande spinta evidentemente si sono trovati meglio e a loro agio appunto come Geiger il grande deluso in realtà è Alvo Regner Granlud che lo vedete qui è al secondo posto del podio un podio che veramente sta stretto al norvegese perché è tecnicamente l'atleta di quelli di coppa del mondo presenti ovviamente più quadrato ha dimostrato poi di fare una prestazione maiuscola quando doveva rispondere presente e lo ha fatto ha pagato purtroppo il venerdì il saltatore norvegese figlio di condizioni non felicissime il quarto salto di Granlud onestamente è di stordente bellezza per citare i telecomunisti di Eurosport e Francesco Paone e Massimiliano Ambesi che hanno raccontato divinamente il mio modo di vedere questo campionato del mondo è un Granlud che comunque si rifarà nella gara a squadre di cui però parleremo dopo perché l'individuale va spiegato bene per farlo ci aiutiamo con la grafica di Wikipedia ma stavolta tedesca e non inglese è stato un mondiale di volo che era partito con pochi atleti al via per la verità 47 in particolare considerato che ogni nazione poteva presentare al massimo 4 atleti e per via di rinunce e per via di altre infezioni da Covid insomma il parco partenti era risultato abbastanza ridotto la rinuncia in particolare è arrivata da questi due atleti che vediamo qui in fondo Dominic Peter e Gregor Deschwanden per una Svizzera che già in partenza aveva perso il suo uomo di punta Simon Amman che non ha gareggiato non avevano il quarto atleta che è stato rispedito in Svizzera a memoria e Gregor Deschwanden e Dominic Peter hanno deciso di non prendere parte alla gara c'erano una serie di atleti che si lottavano la qualificazione alla gara individuale 40 si qualificavano per la gara vera e propria ne sono stati tagliati 5 Decker Dean statunitense, Nico Kitosako finlandese, Patrick Gonzenizza statunitense e Yefen Maruzziak ucraino con la squalifica di Filip Sakala è importante questa cosa invece per l'Italia perché entrambi i nostri portacolori ovvero Alex Insam e Giovanni Bresadola si sono qualificati alla gara individuale Insam poi non ha superato il taglio della prima serie e dunque non l'abbiamo più visto all'opera abbiamo comunque avuto un altro italiano in gara per tutta la giornata di venerdì e per tutta la giornata di sabato ovvero il nostro Giovanni Bresadola che lo dico subito ha fatto una prestazione sontuosa ed è arrivato 24esimo prestazione incredibile considerato che Giovannino Bresadola è un classe 2000 soltanto vent'anni alle prime gare in assoluto di Coppa del Mondo vedendo però in generale la classifica possiamo già fare qualche bilancio in attesa anche della gara squadre che si è conclusa vi ricordo con la vittoria della Norvegia e anche in attesa della Coppa del Mondo che proseguirà settimana prossima Engelberg evidentemente si era già capito che la Germania e la Norvegia potevano dire tanto ed effettivamente è stato così perché la Germania ne piazza due sul podio più Spaschia che è il terzo della squadra va a ridosso dei dieci il quarto tedesco è Konstantin Schmid che finisce quattordicesimo dunque la Germania indubbiamente esce vincitrice da questa gara individuale di volo con gli sci perché averne quattro nei quindici indica assolutamente una predominanza importante la Norvegia pur piazzandone due nei cinque è la delusa perché evidentemente Granrod e Johansson erano dei signori volatori ed erano più quotati chi fa una prestazione suntuosa non è soltanto Bresadola come ho detto prima ma è quest'uomo ovvero Mikkel Heibach che è colui che ha tenuto in piedi l'Austria un'Austria che come vedremo nella prova squadra farà molta fatica perché la formazione appunto austriaca ha avuto tantissimi casi di covid doveva recuperare Stefan Kraft per questi mondiali di volo non è stato così perché Kraft ha avuto problemi nella schiena e dunque Heibach era di fatto da solo contro diciamo tutti gli altri avversari Heibach era l'unico in grado veramente di poter avanzare una candidatura per le medaglie ci è andato diciamo non vicinissimo perché come vedete il distacco è di 15 punti quasi su Eisenbichler però le prestazioni di Heibach sono quelle di un atleta recuperato un atleta che è tornato in condizioni ed è tornato quell'atleta che si giocava con Kraft la vittoria della tournée dei quattro trampolini chi ha deluso sono prevalentemente tre nazioni che vado a elencare prevalentemente il Giappone perché con il potenziale degli atleti che avevano potevano puntare a qualcosa di più ne piazzano soltanto tre nei venti uno lo perdono addirittura nella prima serie il migliore è Yukiya Sato che è l'unico che tiene in su la baracca dei giapponesi l'uomo di punta è mancato ovvero Yoriyu Kobayashi che da dominatore della stagione 2018 da terzo posto nel 2019 si ritrova in un 2020 molto difficoltoso con un sistema di salto molto stravolto è un sistema di salto che purtroppo per quanto sia in crescita in questo momento lo relega verso le posizioni che non contano comunque a punti per Kobayashi la Polonia partiva anche lei con credenziali i diciamo tre uomini di punta sono stati sicuramente Piotr Jiwa e Kamistock con Jiwa davanti addirittura a Stock ma Jiwa ha dimostrato un maggiore diciamo adattabilità a questo contesto di planizza la sorpresa assoluta è questo ragazzo Anjay Stenkawa che di fatto da quarto sulla carta del team polacco anche lui si scopre essere un gran bel volatore e si scopre comunque uomo competitivo e Stenkawa infatti porterà a caso una medaglia di bronzo nella prova a squadre la top 10 la completa Evgeni Klimov per una Russia che può sicuramente essere soddisfatta da questo mondiale perché Klimov va nei 10 sorprendendo a dire la verità la Russia ne piazza un altro in zona punti ovvero Mikhail Nazarov ma ce ne sono altri due che sono a ridosso della zona punti se parlassimo diciamo di Coppa del Mondo i mondiali ovviamente punti non ne assegnano che sono Ilya Mankov e Daniel Sadraev entrambi classe 2003 che sono finite 31esimo e 32esimo fa specie però questo posizionamento ovvero il trentesimo posto di Timi Zajic che è uno degli uomini di punta del movimento sloveno che però ha avuto diciamo dei dissidi molto forti prima della gara individuale quantomeno la seconda parte Zajic di fatto cos'è successo si è lamentato su Instagram della diciamo gestione tecnica del manager Goraz Bertoncelli si parla addirittura di una lite quasi alle mani tra i due Zajic è stato allontanato dalla squadra slovena tanto è vero che il sabato Zajic non ha saltato Bertoncelli si è dimesso seduta stante e la Slovenia diciamo ha dato addio a qualunque speranza di ben figurare peraltro nel mondiale in casa la Slovenia in realtà poi si presenterà alla gara a squadre con Peter Preuz che si è riscoperto su livelli decenti ecco quello che è mancato è appunto Peter Preuz non lo vedete neanche nei primi 40 perché in allenamento ha fatto talmente pietà secondo gli addetti ai lavori sloveni che è stato escluso dalla gara individuale il fatto che uno dei saltatori più competitivi del movimento sloveno che ha vinto anche una Coppa del Mondo qualche anno fa sia stato escluso dal test per la gara individuale la dice lunga sul momento di difficoltà di una squadra slovena che ha in ansia l'anese che evidentemente l'uomo più in forma seppur abbia concluso dodicesimo in questa gara individuale evidentemente queste nazioni che ho citato Giappone, Polonia, Slovenia sono le deluse anche l'Austria se vogliamo metterla anche se l'Austria ovviamente è più definibile con quello che resta dell'Austria visto il Covid le nazioni che possono festeggiare sono le nazioni di seconda fascia la Russia l'abbiamo detto ne porta due nei primi 30 con Klimov nei 10, l'Italia può sicuramente festeggiare un Giovannino Bresadola veramente suntuoso che appunto come detto arriva a 24esimo scusatemi con tanti salti oltre 200 metri sempre migliorandosi con coalizioni anche difficili per un volatore evidentemente quale Giovanni festeggia l'Estonia sicuramente perché avere l'unico rappresentante competitivo di questa piccola nazione nei 30 è positivo in particolare parliamo di Arti Aigro un altro volatore nato ecco Bresadola e Aigro sicuramente si sono tolti il lusso di battere Gregor Schirensauer che non è l'ultimo arrivato è il saltatore che attualmente nella storia del salto con gli sci ha vinto più gare di tutti ovvero 53 ed è anche colui che ha vinto più gare di volo con gli sci in carriera ovvero 14 un ragazzo perché Schirensauer è un classe 90 4 anni in più di me che comunque è un talento puro è un campione di questo sport che però è molto involuto tecnicamente e lotta con nazioni che non dovrebbero teoricamente tenerne il passo nazione altra che può tenersi soddisfatta è il Canada perché si è presentato qui con due atleti McKenzie Boyd-Close e Matthew Sokup entrambi nei 30 segno che i canadesi stanno saltando bene insomma c'è tanta gloria per quelle nazioni che di base in una gara di Coppa del Mondo lottano per la qualificazione o per i punti bassi della classifica in Coppa del Mondo ricordo vanno a punti in 30 quando la gara parte con 50 atleti la Germania è indubbiamente la vincitrice perché Carl Geiger ha vinto l'oro e qui riportiamoci sull'immagine del podio con i festeggiamenti per Carl Geiger dunque suona l'inno nazionale tedesco che come sapete dalla Formula 1 è il canto dei tedeschi torna invece a suonare l'inno della Norvegia per la gara a squadre perché come vedete Daniel Andretande, Johan Andréforfang, Robert Johansson e Alvor Egner Granlund sono i trionfatori della prova a squadre che si è conclusa per la verità poco fa battuta la Germania e terza è stata la Polonia in questa competizione a squadre era veramente facile fare il pronostico in quanto queste tre nazioni ne avevano veramente di più rispetto agli altri gli altri piazzamenti non li vedete ma comunque c'è da sottolineare il quarto posto della Slovenia che comunque si riscatta perché ho trovato, vi ripeto, un buonissimo Ancelanis e un ottimo Peter Preutz considerato i livelli, diciamo, delle gare precedenti questa gara più la vince non la Norvegia in sé ma l'allenatore della Norvegia ovvero Alexander Stockel perché nell'ultimo salto sempre di quest'uomo il solito ormai Alvor Egner Granlund si prende un rischio e abbassa la stanga di partenza da 13 a 10 se un saltatore, ricordo, salta da stanga più bassa se raggiunge una misura che è pari al 95% dell'HS in aggiunta poi di vari e tutti i criteri di compensazione viene incassato automaticamente il bonus della misura ottenuta da stanga più bassa Alvor Egner Granlund fa un quarto salto veramente incredibile un salto mostruoso da oltre 230 metri più vicino ai 2,40 che ai 2,30 2,36 dovrebbe essere, se non sbaglio un salto che mette difficoltà alla Germania a Stefan Holgacher, il caponatore della Germania e a quest'uomo, ovvero Karl Geiger che gioco forza si ritrova a saltare nelle stesse condizioni del suo diretto avversario Geiger però sbaglierà di fatto l'ultimo salto andando, tra virgolette, solo a 220 metri ma per non avere incassato il bonus della stanga più bassa come Granlund la vittoria va alla Norvegia che dunque torna a vincere una gara a squadra anzi in realtà si conferma perché nell'ultimo mondiale del 2018 lo vinse appunto la Norvegia il titolo dunque suona l'inno norvegese per Daniel Andetande, Johan Andetforfang Robert Johansson e Alvor Egner Granlund un medagliere che comunque vede la Germania trionfare con un oro, un argento e un bronzo seconda posizione per la Norvegia con un oro e un argento la Polonia con il bronzo a squadra e terza nel medagliere in questa tre giorni di planizza che ha regalato veramente tanto spettacolo e tante cose di cui raccontare nonostante condizioni difficili perché gli atleti in generale hanno sempre trovato vento di coda quindi un vento penalizzante che di base non promette grandi misure invece abbiamo visto tante misure oltre i 240 metri i salti di Haibo che sono stati molto competitivi Eisenbic lo stesso Granlund tecnicamente hanno fatto salti mostruosi nel nostro piccolo, ripeto il nostro Giovanni Presadola anche lui ha fatto tanta roba veramente insomma tanta carne al fuoco il livello di quest'anno della Coppa del Mondo sembra tanto tanto buono e per il prossimo grande evento che sarà la Tournée dei Quattro Trampolini di cui ci sarà un video apposta ci sarà veramente anche lì da fare molta attenzione a chi potrà essere il favorito lì poi è una manifestazione ancora più complicata di un mondiale di volo ci sono tanti pretendenti secondo me per la Tournée ma ne parleremo in un video dedicato intanto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo mondiale di volo di Planizza 2020 con le vittorie di Geiger nell'individuale per la Germania e della Norvegia nel team event il saluto da parte di me Tutorber ci vediamo giovedì alle 19 per il pagione del 2020 2020 di Formula 1